Gromo presente per il futuro è in nome della lista civica che per le prossime elezioni comunali del 5 giugno candida a sindaco Sara Riva. 28 anni, avvocata, assessora uscente a cultura, turismo e comunicazione, Sara Riva guida una squadra con diversi giovani, l'età media non arriva ai 40 anni. Tra i candidati consiglieri c'è anche Marco Paganessi, 32 anni, architetto, assessore uscente ad urbanistica edilizia privata, commercio e sport. Gli altri candidati consiglieri sono Ramona Bergamini, 22 anni, geometra, Sergio Bertini, 67 anni, pensionato, Omar Gandelli, 40 anni, idraulico, Livio Angelo Grasseni, 52 anni, metalmeccanico, Andrea Maccari, 48 anni, elettricista, Paolo Morstavilini, 26 anni, lavoratore edile, Andrea Pasini, 21 anni, operaio, Valentina Santos, 22 anni, studentessa universitaria e Lorenza Spinoni, 59 anni, pensionata. Quella di Sara Riva potrebbe essere una corsa solitaria o contro il quorum, come si dice in questi casi. Sembra infatti che non ci siano altre liste pronte a presentarsi, salvo sorprese dell'ultima ora.